spagnolo l'ho l'ho imparato agli europei e mondiali ogni volta che mi contatto a spagna me l'ho fatto imparare molto bene loro in miami ti gustò? si un dia, recién un dia stiamo qui però non fieste neanche a la piletta o a la playa non salimos ni a dar una caminata oye come se prepara l'equipo per questa pretemporada, per questa temporada? che già quasi empieza no, bene, bene, la verda che si ha hecho un buon trabajo a nivel de pretemporada, digamos fisico e vogliamo proseguire con questo periodo di vittoria Paraniglipiri? Pupiri ovviamente a nivel del juego non si ha conseguito lo soggettivo che queriamo perchè, beh, abbiamo jugato partì calore, tienes calore e la comunità ti mata beh, siamo... veniamo da un percorso di due anni molto importante che cosa? ora, provate con le elimini si, complicatissimo si, perché Mesuela lo va a dejar fuori no negativo e se gana a la selección e poi i sono vantaggi No, abbiamo 1 a 0, è vero. Bromma, però quasi pierde. E, però che? Fui solo 1 a 0. Fui solo un gol. Serviu per raggiungerlo. Tiene che raggiungerlo a tutti gli altri punti. Si no, stanno fuerti. Iguali che a voi. Calore si tiene. Sempre. Sempre no. Sempre caliente. Va. Las deportadas parlano italiano. Un saludo enorme per tutta la gente deportada. Directo a la ducha. Andate a bañarte. Un saludo. Un saludo.